Dopo 50 giorni di lotta e preghiera, continua lo sciopero della fame contro il governo anti-italiano e contro il sistema sociale totalitario che lo appoggia e lo serve. Descrive così la sua battaglia a Rosario del Vecchio, che ha svolto per 36 anni la professione di insegnante di religione al liceo Galilei di Legnano, fino a quando lo Stato non gli ha tolto la possibilità di lavorare, lasciandolo senza stipendio perché non ha il Green Pass. Ho educato i miei cinque figli a vivere per la patria e l'onore, ha spiegato, e non posso non dare il buon esempio proprio ora che il paese rischia di scomparire dalla faccia della terra e di essere sostituito da una massa indistinta di individui senza anima. Gli italiani, a proseguito del vecchio, devono sapere che esiste una parte del popolo ancora sana, piena di vita, di amore e verità. Dopo un mese trascorso a pane e acqua fino a Natale, ora lo sciopero della fame si concentra in alcuni giorni della settimana, ma con una motivazione ben precisa. Ho deciso questa strategia, siccome questa battaglia andrà avanti per molto tempo, allora per non compromettere la salute, cosa faccio? Faccio il digiuno nei giorni feriali, nei giorni di lavoro, nei giorni in cui sono sospeso, nei giorni in cui non vengo pagato e quindi sono economicamente in mezzo a una strada, ma i giorni di festa, i giorni del Signore, i giorni di Dio invece mangio. Quindi io continuo questo gesto simbolico che comporta una leggera sofferenza, ma ce la faccio benissimo. In questo periodo Rosario ha ricevuto tantissimi attestati di vicinanza e di solidarietà. C'è tanta gente, ci ha raccontato che ha bisogno di vedere una fiaccola accesa e di capire che la verità esiste. Il problema della nostra epoca è questa falsa verità, la menzogna che domina nella quasi totalità dei media e delle televisioni. Ecco, ma visto il periodo, che cosa ne pensa di fondare un partito politico formato e sostenuto dalle persone non vaccinate? Io dico che c'è esigenza storica, esigenza spirituale, esigenza interiore ma anche esigenza politica, che si formi una forza politica in Italia, ideale, culturale, politica, che agisca anche politicamente, per contrastare questa ondata di menzogna. Abbiamo visto il Presidente del Consiglio l'altro giorno nella conferenza stampa dire che è colpa dei non vaccinati se le cose vanno male. Allora, questa frase è una frase carica di menzogna al 100%, è una frase che aizza la rissa, aizza l'odio tra gli italiani. Questo non ci deve essere, quindi non ci deve essere odio e guerra tra vaccinati e non vaccinati. Ci deve invece essere lotta tra coloro che amano un'Italia libera, un'Italia cristiana, un'Italia che ama la dignità umana, che ama la tradizione italiana, invece un'Italia che oggi domina il potere in mano, un'Italia che è serva delle grandi multinazionali internazionali, che vuole controllare tutta la società, che vuole mettere un green pass sull'anima di ogni persona. Ecco, questo è il nemico, questa è ideologia rappresentata dall'attuale governo, ma l'attuale governo non è l'artefice, è soltanto il servo di questo sistema. Allora ci vuole una forza politica che dica prima di tutto la verità, bisogna dire la verità. Ecco, lo può fondare lei questo partito, ci ha pensato? Io mi metto in gioco, ho una lunga esperienza politica di quando ero giovane, l'ho messa un attimo da parte per dedicarmi alla famiglia, alla cultura, al lavoro, all'insegnamento. Adesso, visto questa situazione eccezionale italiana, ho deciso di alzare di nuovo la testa, di tirare fuori di nuovo, simbolicamente, l'ascia di guerra, per dire che adesso in Italia basta. Cioè, la devono finire questi tecnocrati finanzieri, banchieri, internazionali che hanno mandato uno dei loro soci a comandare in Italia senza essere eletto, a distruggere l'Italia. Voi, con la scusa della pandemia, state distruggendo il popolo italiano. E allora ci vuole una forza morale, politica, culturale, spirituale, che dica no, non vogliamo vivere nella menzogna, vogliamo riprendere la tradizione italiana, non vogliamo il prestigio dell'Italia nel Mediterraneo e in Europa. Svegliatevi, aprite gli occhi, aprite l'anima. Qui ci stanno ammazzando. Dio non vuole che l'Italia muore, che il popolo italiano muoia. Dio vuole un'Italia viva, vuole che i giovani si sposino, facciano i bambini, che aprano dei negozi, aprano delle attività, aprano delle aziende, che siano felici di mettere al mondo dei bambini, devono vedere un futuro. Ci vuole l'aiuto di Dio, perché la situazione è troppo grave. Però ci vuole un'azione politica, non bastano i discorsi. L'Italia deve uscire da una cappa di dittatura mentale, dittatura mediatica, dittatura culturale, una dittatura spirituale. Bisogna spezzare le reni alla dittatura spirituale. Anche con la sofferenza, anche con la gioia, anche con la voglia di vivere, anche col pensiero, con la razionalità, con la filosofia, ma soprattutto con l'azione.